La Guardia di Finanza sequesta capi contraffatti a CD e DVD privi del marchio SIAE. Prevenzione e repressione dei traffici illeciti in materia di contraffazione marchi, lotta alla pirateria audiovisiva nei principali mercati rionali. Continua senza sosta l'attività della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Siracusa. Le operazioni di servizio eseguite dai militari della tenenza di noto, dirette dal capitano Maria Grazia Ponziano, rientrano nel più ampio dispositivo di controllo economico del territorio ordinato dal Comandante Provinciale di Siracusa, Colonnello Lucio Vaccaro. Le fiamme gialle hanno sorpreso presso il mercatino di Avala due soggetti che con bancarelle di fortuna vendevano scarpe contraffatte e CD DVD pirata. Nel corso dell'attività militare hanno individuato e sequestrato 94 paie di scarpe di note griff, tra le quali Adidas, Puma, Nike, Gucci, Louis Vuitton e 97 CD DVD illecitamente duplicati in violazione dei diritti d'autore con le relative copertine contraffatte, in quanto riproducenti in fotocopia il prodotto originale. I due commercianti, accorgendosi dell'arrivo dei militari della Guardia di Finanza, si sono andati alla fuga facendo perdere le tracce in mezzo ai tantissimi avventori. Sono tuttavia in corso le indagini per l'individuazione dei due fuggitivi e per la ricostruzione della filiera produttiva della merce sottoposta a sequestro, destinata ad essere immessa sul mercato, violando la normativa tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Tali attività sono effetto del costante impegno messo in atto su tutto il territorio di competenza dal Comando Provinciale di Siracusa, per contrastare in modo tangibile ogni forma di illecito nello specifico settore finalizzato alla tutela di un bene primario, qual è la salute del consumatore finale. L'impegno profuso testimonia ancora una volta il ruolo di Polizia Sociale svolto dalla Guardia di Finanza, oltre che di Polizia Economica e Finanziera a tutela dei contribuenti che rispettano le regole commerciali.